con lo sguardo a gesù crocifisso e risorto lettera dell'arcivescovo per la pasqua 2020 in tempo di pandemia carissimi fratelli e sorelle la pandemia che sta sconvolgendo il nostro paese e il mondo è entrata all'improvviso con i suoi effetti anche nelle nostre vite e ci ha costretto a mettere da parte comportamenti consolidati e a dare forma nuova alle nostre giornate tutto è stato travolto dalle cose più banali come non poter fare una passeggiata o andare a mangiare una pizza con gli amici fino a quelle più sostanziali come non poter più abbracciare i nostri cari visitare gli anziani o dare un aiuto di persona a un povero ne è stata toccata anche la vita spirituale di noi cristiani privata delle celebrazioni dell'assemblea del popolo di dio con i suoi pastori questi hanno continuato a celebrare in questi giorni ma senza la presenza viva dei fedeli attorno a loro sebbene la fede ci dica che ogni messa è celebrazione della chiesa e ha un valore universale sempre e comunque e ora giunge la pasqua ho pensato che come vescovo non potevo non dire una parola di orientamento e di conforto al mio popolo lo faccio con la consapevolezza che il legame tra noi non è stato compromesso dalla lontananza che ci è stata imposta e che ho cercato di supplire con riflessioni sulla parola di dio e con preghiere di affidamento al signore e alla sua e nostra madre trasmesse con i moderni mezzi di comunicazione soprattutto la mia vicinanza vi è assicurata dai miei e vostri preti che continuano ad essere presenti alle comunità anch'essi con modalità nuove ma ormai verso la pasqua sento che devo dirvi una parola specifica anzi un po di parole che ho provveduto a dividere per argomento così che si possano leggere anche in momenti diversi come vivere la settimana santa comincio da una domanda che mi viene posta spesso in questi giorni come potremo vivere la settimana santa mentre continua ad esserci impedito di vivere le celebrazioni liturgiche insieme sappiamo che questo sacrificio lo stiamo facendo per responsabilità sociale anzi come un atto di carità verso i nostri fratelli più fragili che verrebbero travolti dall'ulteriore diffusione del virus come pure verso coloro che se ne prendono cura nella sanità e nel volontariato a cui non possiamo chiedere di caricarsi di ulteriore fatica in un impegno giornaliero già molto gravoso la nostra rinuncia è un atto di carità non lo dimentichiamo è esprimere nella vita quella carità che è il cuore e il frutto dei sacramenti ecco allora una riflessione sul significato della settimana santa a cui dobbiamo volgere il nostro sguardo e che dobbiamo tenere vivo nel nostro cuore al di là dei modi in cui potremo viverla la settimana santa e in essa in particolare il triduo pasquale costituisce la sorgente da cui scaturisce tutta la vita liturgica della chiesa e quindi la trasmissione della grazia dell'amore di dio per gli uomini attraverso i segni che cristo ha affidato ai suoi discepoli gli eventi di cui si fa memoria in questi giorni costituiscono il contenuto di ogni celebrazione domenicale così abbiamo ascoltato dall'annuncio del giorno della pasqua nella solennità dell'epifania centro di tutto l'anno liturgico è il triduo del signore crocifisso sepolto e risorto che culminerà nella domenica di pasqua in ogni domenica pasqua della settimana la santa chiesa rende presente questo grande evento nel quale cristo ha vinto il peccato e la morte a introdurre il triduo è la domenica delle palme e della passione in cui in un solo rito vengono eccezionalmente proclamate due pagine del vangelo che segnano il cammino di gesù dall'ingresso trionfale in gerusalemme alla sua uscita dalla città per essere crocifisso sul golgota il messia acclamato dalle folle svela il suo volto di salvatore degli uomini non nel rivendicare un potere umano ma nell'offrirsi alle sofferenze della passione fino a sfidare la morte come prova suprema del suo amore l'attualità di questo messaggio è nel sentirsi chiamati anche noi a condividere con gesù l'offerta di sé per i fratelli pronti a rinunciare a tutto fino alla vita anche noi per amore solo per amore il triduo prende poi avvio nella sera di giovedì santo con la memoria della cena di gesù con i discepoli segnata anzitutto dalla lavanda dei piedi che quest'anno non potremo rievocare come gesto ma che proprio per questo ci interroga ancor più profondamente nel suo significato di umile servizio che sconvolge tutte le gerarchie umane se dunque io il signore e il maestro ho lavato i piedi a voi la cena poi trova il suo culmine nel segno reale della presenza e del dono di sé che gesù affida per sempre a un po di pane e di vino che diventano la permanenza sostanziale di lui il signore con noi e in noi per sempre egli non è semplicemente un compagno di viaggio ma una presenza dentro di noi che accolta diventa fonte di vita nuova in noi una vita come la sua un dono e un impegno lo spiega a gesù stesso nei discorsi che fanno seguito a quella cena affidandoci il comandamento nuovo questo è il mio comandamento che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi e affidando noi al padre per renderci capaci di testimoniare il suo vangelo nel mondo non prego che tu li tolga dal mondo ma che tu li custodisca dal maligno consacrali nella verità e perché siamo in grado di essere un riflesso di dio e del suo amore tutti siano una cosa sola come tu padre sei me e io in te siano anch'essi in noi perché il mondo creda che tu mi hai mandato tutto fondato non sulle nostre risorse ma sull'amore di gesù per noi ce n'è per motivare una rinnovata attenzione verso tutti in particolare per chi in questa situazione di pandemia rischia di rimanere travolto dalla crisi economica andando ad allargare le fila di coloro cui manca il necessario la loro presenza non può mancare alla tavola eucaristica del nostro impegno di carità nel venerdì santo la proclamazione della passione ci pone davanti al mistero della sofferenza del crocifisso invitando a cogliere in profondità l'umiliazione a cui cristo soggiace nel suo misurarsi con il peccato del mondo per redimere l'umanità cristo gesù pur essendo nella condizione di dio non ritenne un privilegio l'essere come dio ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo diventando simile agli uomini dall'aspetto riconosciuto come uomo umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce la memoria della passione è accompagnata da una preghiera universale in cui si raccolgono tutte le attese della chiesa e del mondo e che termina con l'invocazione per i tribolati quest'anno introdotta così preghiamo fratelli carissimi dio padre onnipotente perché liberi il mondo dalle sofferenze del tempo presente allontani la pandemia scacci la fame doni la pace estingua l'odio e la violenza conceda salute agli ammalati forza e sostegno agli operatori sanitari speranza e conforto alle famiglie salvezza eterna a loro che sono morti al volto sofferente di cristo devono unirsi nel nostro cuore ai volti dei poveri cristi che soffrono nella malattia e di quanti come la veronica si chinano con compassione su chi soffre e si spendono nel prendersi cura dei malati e dei poveri la visione della violenza che si abbatte su gesù deve risvegliare le nostre coscienze anche a non dimenticare le vittime delle ingiustizie e delle violenze che si consumano nel mondo infine la liturgia invita ad adorare la croce riconoscendo in essa non solo uno strumento di morte ma anche soprattutto lo strumento della nostra salvezza la chiave della porta dell'eternità la misura del supremo atto d'amore del signore per noi nel sabato santo il silenzio circonda il crocifisso sepolto tolto ai nostri occhi ma non all'attesa del nostro cuore per il quale il sepolcro non indica un'assenza ma una nostalgia c'è qualcosa che avvicina il silenzio del sabato santo a questi giorni anche se si tratta di un silenzio diverso sono giorni vuoti di ciò che era solito occupare ieri il nostro tempo spesso ahimè sciupato in cose di poco conto e schiavo di falsi bisogni e di esperienze alienanti giorni a cui fatichiamo a dare un senso ma che se vissuti oltre l'apparenza possono aiutarci a discernere tra ciò che è essenziale e ciò che non lo è tra gli affetti veri e i legami superficiali tra servire i fratelli e servirse ne o lasciarsi a servire tra aprire il nostro sguardo oltre le cose visibili e rimanere schiavi del qui e ora giorni in cui soprattutto possiamo riscoprire il desiderio di una pienezza che solo l'infinito ci può dare l'attesa del sabato santo sia per noi l'attesa di dio della sua presenza nella nostra vita di lui come l'unica luce che la può illuminare è la luce che sfolgora nella veglia pasquale nel cero segno di gesù luce nelle tenebre dell'umanità come canta l'exultet questa è la notte che salva su tutta la terra i credenti nel cristo dall'oscurità del peccato e dalla corruzione del mondo li consacra all'amore del padre e li unisce nella comunione dei santi questa è la notte in cui cristo spezzando i vincoli della morte risorge vincitore dal sepolcro questa è la pasqua nella morte e resurrezione di cristo ci è dato il potere di sconfiggere il peccato e la morte vale a dire di contribuire a edificare questo mondo secondo il progetto di dio e insieme di proiettare la nostra vita oltre il tempo nell'eternità tutto questo perché siamo resi partecipi dell'amore stesso del padre questo è il dono che ci è stato consegnato nel battesimo di cui nella veglia pasquale si fa memoria con il rinnovo delle promesse battesimali mistero pasquale e sacramento del battesimo devono poi diventare vita nella testimonianza concreta della gioia dell'incontro con l'amore del padre della comunione fraterna che scaturisce dalla medesima figliolanza divina della forza che l'amore accolto ci dona per farci costruttori di vita nel mondo a nutrire la gioia deve essere una fede coraggiosa ad alimentare la comunione ci vuole una carità senza riserve a sostenere l'impegno per porre i semi del regno di dio nella storia avremo bisogno di una salda speranza se avremo vissuto con questi sentimenti il triduo pasquale potremo attendere che anche per noi si realizzi quanto la liturgia della domenica di pasqua fa chiedere al padre o padre che in questo giorno per mezzo del tuo unico figlio hai vinto la morte e ci hai aperto il passaggio alla vita concedi a noi che celebriamo la pasqua di resurrezione di essere rinnovati nel tuo spirito per rinascere nella luce del signore risorto ho voluto condividere con voi questi pensieri offerti come un itinerario per questi giorni non potendo compiere i gesti esteriori della partecipazione ai riti non manchi questa partecipazione della mente del cuore per tenerci uniti a quanto il padre ha fatto per noi nel suo figlio e a vivere la comunione tra noi in un legame spirituale che la separazione fisica non deve distruggere ma piuttosto rafforzare in vista di quando potremo e dovremo dare più profondo significato più viva partecipazione e più concreta proiezione nella vita alle celebrazioni assembleari che riprenderemo non appena ce ne verrà data la possibilità esorto i preti a celebrare in questi giorni con la stessa dedizione con cui avrebbero celebrato con il loro popolo che se non potranno avere nelle loro chiese avrà senz'altro spazio nel loro cuore sapendo che esso è misticamente presente nel mistero celebrato in quanto atto ecclesiale e mai privato esorto i diaconi e quanti sono chiamati a servire all'altare a svolgere il loro servizio con dedizione perché il rito mantenga la sua dignità si celebra davanti al signore che ci siano o non ci siano i fedeli che si sia in pochi o in tanti esorto i fedeli a unirsi spiritualmente alle celebrazioni avvalendosi anche della possibilità di seguire quelle del santo padre trasmesse dalle reti televisive in particolare tv 2000 e poi quelle che collocate appositamente in orari diversi presiederò nella nostra cattedrale visibili nei siti della diocesi di toscana oggi e di radio toscana agli stessi fedeli in particolare alle famiglie segnalo che la diocesi sta diffondendo sussidi per la preghiera in casa legati a contenuti e gesti delle celebrazioni liturgiche che vengono trasmessi ai parroci pregare in casa in questi giorni ci aiuterà a riscoprire la preghiera in famiglia che non mancava mai un tempo nelle famiglie cristiane al centro della nostra preghiera e ora un pensiero che vuole abbracciare tutti coloro che vivono in questi giorni di pasqua in un'inattesa sofferenza o in un difficile servizio il pensiero e la preghiera sono anzitutto per i tanti morti di questi giorni a cui non abbiamo potuto assicurare i gesti usuali della liturgia cristiana ma che nessuno deve pensare che siano lontani dalla preghiera della chiesa oggi nella preghiera silenziosa e quando ce ne verrà data la possibilità nelle forme proprie della preghiera della comunità ci sentano vicini nella condivisione del dolore le loro famiglie che spesso sono state separate dai loro cari nella fase più acuta della malattia e negli istanti della morte le sorregga la certezza che c'è una comunione dei cuori che la lontananza fisica non spegne il nostro pensiero raggiunge tutti i malati soprattutto quelli a cui nelle terapie intensive sono sottratti consueti contatti con le persone care pur non mancando loro l'attenzione umana di tanti medici e infermieri anche la cura pastorale verso di loro da parte dei nostri cappellani ospedalieri è sottoposta a limiti quando non è possibile raggiungerli accanto al letto siamo certi che essi non mancano però di vegliare e pregare oltre le porte e i vetri che proteggono le azioni di cura sanitaria a tutti i malati vogliamo dire che preghiamo con loro e per loro così come in questi giorni più volte ha fatto e ci ha esortato a fare papa francesco sono loro ora al centro del cuore della chiesa attorno a loro si muovono con professionalità e dedizione medici infermieri e personale ausiliario della nostra sanità e del volontariato il loro servizio di cura indispensabile pieno di pericoli per le loro stesse persone verso di loro si rivolge la nostra considerazione e la nostra gratitudine insieme alla preghiera al signore perché siano sostenuti nella loro fatica gratitudine e preghiera vogliamo riservare anche a chi governa e amministra il nostro paese le nostre regioni e città le decisioni che devono assumere spesso pesanti per i cittadini accompagnate da conseguenze non facilmente decifrabili sulle persone sul futuro anche economico della nazione siano sempre illuminate dai principi che fondano il vivere civile equità e attenzione privilegiata ai più poveri solidarietà e sussidiarietà ricerca del bene comune pensiero e preghiera abbracciano anche tutti coloro che si trovano a vivere negli spazi ristretti come previsto dalle norme emanate per evitare la diffusione del contagio le nostre famiglie anzitutto in particolare i bambini e i ragazzi a cui è negata la possibilità del gioco e trovano ostacoli nei normali percorsi scolastici vicini al nostro cuore sono anche gli anziani e disabili ospiti delle residenze sanitarie o di altre realtà di accoglienza e di cura costretti a un isolamento che rischia di far sentire lontani i loro cari alcuni aggrediti dal virus che si accanisce particolarmente su chi ha già altre patologie senza dimenticare chi li assiste uomini e donne chiamati a un impegno ogni giorno più faticoso al nostro pensiero e al nostro cuore sono inoltre ben presenti detenuti già ristretti per la natura della loro pena e per le condizioni spesso disumane delle carceri e ora particolarmente minacciati da un virus che qualora entrasse nelle celle sarebbe una inesorabile minaccia la loro vita e il presupposto di una rovina dell'intero sistema per loro oltre che vicinanza e preghiera si chiede a chi ha l'autorità provvedimenti che possano almeno ridurre le condizioni di sovraffollamento una prospettiva per il presente ma guardando al futuro come a un dono a chiudere questa lettera un pensiero che vuole al tempo stesso far discernimento sul presente e orientarci già verso il futuro eravamo così sicuri di noi stessi del modello di uomo e civiltà che andavamo costruendo che abbiamo pensato fino ad oggi di essere invulnerabili così forti nella nostra volontà di potenza nel pensare di poter tradurre ogni desiderio in un diritto di poter estendere i confini del nostro dominio ma la presunzione di garantirci ed essere garantiti si è scontrata in questi giorni con un'acuta esperienza di fragilità e precarietà e aver scoperto che non tutto ci può essere garantito tantomeno la vita può essere vissuto precipitando nella disperazione oppure scoprendo che se nulla mi è dovuto allora tutto quello che ho è un dono è un dono anzitutto che stiamo a questo mondo che la nostra vita si sia accesa nel tempo per incamminarsi verso l'eterno è un dono ogni giorno che si apre davanti a noi come uno spazio di possibilità da riempire con responsabilità è un dono il tessuto comune di umanità che tutti ci unisce e ci impedisce di vagare nella vita senza riferimenti proprio la percezione che tutto questo è così fragile come si sperimenta in questo tempo in cui i più sfortunati vedono messa a rischio la vita e tutti siamo costretti a modificarne radicalmente le forme a causa delle doverose rinunce cui dobbiamo sottostare per il bene nostro di tutti ci dovrebbe far capire che nulla è scontato e che tutto è un dono lo è la vita lo è un cielo luminoso l'abbraccio di un genitore l'affetto tra due sposi la possibilità di conoscere cose nuove il sostegno che ci viene da un fratello e quello che noi offriamo a lui per chi crede la presenza di un dio che è amore tutto è dono e il dono di questi tempi difficili deve essere cambiare i nostri occhi e il nostro cuore e a cominciare da oggi per continuare dopo a vivere con negli occhi lo stupore e nel cuore la gratitudine ma la consapevolezza di vivere nel dono deve anche far maturare la responsabilità di farci dono agli altri sarà questo un compito assai impegnativo per il futuro che ci attende in cui la crisi economica coinvolgerà imprese e persone con inevitabili conseguenze di tenuta familiare e sociale anche di equilibrio psicologico e spirituale uno scenario in cui ci si dovrà inventare forme nuove di carità ma anche più al fondo sarà necessario superare l'attuale modello economico dominante per ripensare il mondo della produzione del lavoro quello degli scambi commerciali come pure quello della finanza in senso più solidale operare in noi tra noi questa rivoluzione dello sguardo e delle opere trasformerà questi giorni tristi in un tempo di grazia ne potrà scaturire una vita nuova un mondo rinnovato è la pasqua del signore la presenza di dio tra noi è seme di un mondo nuovo a cui non può mancare la nostra presenza queste parole del poeta thomas eliot interpretano bene quanto ci attende in luoghi abbandonati noi costruiremo con mattoni nuovi vi sono mani e macchine e argilla per nuovi mattoni e calce per nuova calcina dove i mattoni sono caduti costruiremo con pietra nuova dove le travi sono marcite costruiremo con nuovo legname dove parole non sono pronunciate costruiremo un nuovo linguaggio c'è un lavoro comune una chiesa per tutti e un impiego per ciascuno ognuno al suo lavoro possiamo dirci null'altro che le voci degli operai del coro di eliot devono essere oggi le nostre voci l'immagine di un mondo nuovo come di un cantiere dovrebbe esserci cara a noi fiorentini mentre facciamo memoria dei 600 anni dell'inizio della costruzione della cupola della nostra santa maria del fiore dovremo usare il futuro con la stessa immaginazione e con lo stesso coraggio di filippo brunelleschi e dei suoi operai essi non ricostruirono ma ebbero l'avventura di dover usare ciò che nessuno aveva usato noi dovremo ricostruire ma non dovrà mancarci lo stesso ardimento un progetto di una casa nuova per l'uomo da tenere nel cuore e in cui collaborare come in un cantiere così un altro poeta mario luzzi celebrava nel 2000 la nostra cattedrale anche queste parole che egli pose sulla bocca di santa maria del fiore illuminano la strada davanti a noi vorrei essere forte di tutti i miei slanci e di tutti i miei peccati di tutte le mie miserevoli omissioni e delle mie tribolate penitenze per accogliere con fede e con speranza questo advena questo sopravvenuto tempo viene forse duro ed impietoso a chiedere ragione del grande patrimonio che abbiamo dissipato viene forse smarrito a mendicare un po di quella povera sostanza vorrei che fossimo uniti tutti insieme figli miei per essere una roccia su cui possa posare il piede chi arriva e prendere slancio per il volo perché questo ci ha chiesto figli miei di crescere nel tempo questo ci giustifica buona pasqua dal vostro vescovo vostro pastore servo e padre firenze 5 aprile 2020 domenica delle palme e della passione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti